ragazzi il bordo stringe bene dano ha paura e non è l'unico salve a tutti i blazers e benvenuti in questo nuovo video di forcraft insieme a eme a danny quanto ritardo a tanu ragazzi oggi siamo in una nuova mappa ve l'abbiamo promesso dopo qualche episodio speciale l'episodio trentesimo che abbiamo tra l'altro fatto in premiere forse anche questo sarà in premiere quindi nel caso ciao ragazzi live salve chat questa è una nuova mappa che da qui non si capisce tantissimo ma è una mappa enorme la più grande mai fatta finora ed è a tema fantasy quindi avrà un sacco di biomi con funghi giganti cose stranissime cercheremo di girarla un pochettino mentre tech non lo farà perché allora ci sono anche delle novità una novità fondamentale è il rampino che ci permetterà di muoverci anche verticalmente non ha molti utilizzi ve lo farò vedere poi durante la partita è anche un po pericoloso quindi va usato con cura vi faccio anche vedere che sotto l'isola di spawn c'è un cubo vi ricordo qualcosa sì è il cubo di fortnite perché sta lì che cosa farà lo scoprirete nel corso delle partite su questa mappa che diciamo che avrà dei mutamenti potremmo dire così detto ciò ragazzi io direi di prepararci e possiamo anche partire lasciate tanti like per la nuova mappa mi raccomando allora tech e io direi di attivare la nostra assistente alexa va bene alexa marcuxi avvia timer da 10 minuti vai si parte io mi troppo ciao allora la cosa figa che noi droppiamo c'è subito un'isola volante qui volendo ecco io ho preso un cuore di danno ma come cosa succede per l'altro è pieno di jam fattico è sbattuto contro un muro cioè preso danno da forza cinetica si è un pochino praticamente bello io ho preso mezzo cuore di salto adesso come al solito va bene iniziamo benissimo questa partita comunque vorrei sapere un po il parere di danni che lo vedo particolarmente attivo cioè cerca di far parlare anche gli altri comunque non essere troppo l'acquace non essere troppo l'acquace cioè ci vuoi rubare la molto colorata molto lsd c'era un lucky block per fortuna che non l'ho aperto stando sopra perché sarei caduto in un baratro chi l'ha messo sto coso saranno i trollini se le vessi te questi tecchi si c'era una trollata enorme raghi meno male che che me le aspetto ste minchiate ormai da voi allora abbiamo trovato un'arma leggendaria secondo voi che cos'è la spada purtroppo no lo spice in it or no però non è male è un lancia granate esattamente dipende dalla situa ma intanto faccio vedere ci sono vari bioni di che cosa è ma se è morto allora danny sei il primo che muore sta partita come se non li avrete mai ma poi cosa fai ti porti la lava dietro si si crafta anche un secchio non si può fare non si può fare non si può è vietato come facciamo prendere quella che non lo prendiamo molto semplicemente ci sono dei lacchi messi in un posizioni molto spaisi ma io lo so che l'hai fatta tu sta zona c'è la si vede la tua mano quella della lava intendi quella della lava la fatta te e sì 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 l'ho vista anche quello totalmente nel vuoto e l'ho pure preso ecco anch'io l'ho preso sì perché magari fortunato era fortunato però se allora vi dico che posso darvi uno spoiler quelli che trovate proprio nei punti più e sono quelli nei punti infami saranno fortunati una ricompensa vabbè ci sta ci sta tutto il rischio allora di tanto sto facendo vedere questa mappa che già abbiamo visto quattro biomi diversi ci dobbiamo beccarci perché ho trovato il barretto ho trovato il barretto ho trovato il barretto Dani dove sei che ti difendo io ti difendo io ti vogliono tutti morti hai solo un amico qui dentro Dani io non ce l'ho il bannetto non avete capito io voglio droppare il barretto esplosivo a Dani direi che combina davvero ma come sei pazzo aspetta se lo fai è spicy mi piace sta cosa dico Dani vince la sua prima partita ragazzi questa mappa è una cosa utilissima mamma mia insomma ha trovato una jump vedi tu vedi un po lei e abbiamo abbiamo messo tanti lucky fortunati per rendere le cose più spicy allora come al solito quando c'è una nuova mappa ci sono tante info da dare ho trovato il barretto oh cazzo ragazzi sei serio? si e ho i colpi esplosivi sono quelli gialli no? si no 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 sono quelli neri sono quelli grigi sono cioè quelli gialli sono più normali quelli gialli sono quelli normali no 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 c'è scritto mamma mia raga io già so che Dani shotterà Eren no col barretto esplosivo sarebbe una mime definitiva guarda ma scusatemi eh tecno no no oh ma se può oh no tecno ti ho accarezzato dai vieni qua raga l'ho accarezzato e si incavola cioè io non lo so ma io mi sono letteralmente perso non so dove io sia ti distruggo ma dai tec è stato lasciato lì dai se vieni qua io ti spacco ma va via come litigano ora si mettono a graffiarsi tanto è pieno di ocelot infatti vero uno più uno meno bel micione allora che stavo dicendo io ah perfetto ne ho trovata una ragazzi questa mappa ci sono anche le moto possiamo andare in giro in moto e prendere danno da caduta quindi la lascerò qui perché questo pazzo io sento esplosivi raga allora raga adesso però io voglio riunirmi la festa cioè voi non è che giocate senza di me dove siete dove siete amici lui no raga con il barretto esplosivo boh ci sono delle macchie bianche non so cosa sia forse sono danni muori prima kill di barretto esplosivo danni si sta impegnando tantissimo aspetta però danni c'è comunque vacci piano non sprecarmi tutti i proiettili per piacere no 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 cioè questo ha pure la minigun si piglia il barretto esplosivo ma cioè ma la minigun era esplosivo era normale no no normale 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 scusa c'è ah non si sa mai va bene tutto raghi però di certo non è il servo del governo mi chiamo in una società povero danni ma io ho risparmiato te che l'ho accarezzato e tu mi uccidi sì ma perché lui senza cuore no siamo tutti qui amici che ci divertiamo voi non avete capito beh oddio non esageriamo il problema era che lui mi stava smitragliando col barretto infatti ha soltanto un colpo esplosivo e basta in canna a dire al brutal miss allora c'è sì c'è mi sparavano in continuazione quindi o schiattavo o sparavano io danni io te l'ho detto però di lasciare qualche colpo io te l'ho detto lo so un po mi sento deluso da te ho avuto una cosa mi sembrava di vedere qualcuno ma non no ma se mi hai sparato dalle spalle prima io ti colpando ha una cosa che non ho che non sono riuscito a dire prima che ci sono più lucky block fortunati in questa mappa che già è più grande è più dispersiva quindi tipo in teoria un lucky block su quattro dovrebbe essere fortunato a quanto pare questa regola non si sta applicando per me ma nemmeno per me uomo perché io non è fatta apposta sto trovando solo sti stupidi fucili a pompa che neanche ho mai usato il remington si 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 nerfiamoli il reggaeton hashtag nerfall leggendari armor ragazzi siete tutti i bardati armati io non c'ho la gallia praticamente sono bordo mappa vedo la circonferenza della mappa io proprio vedo la parte esterna e stare attento e ne è molto stare attento allora io adesso faccio una cosa spicy perché mi sono rotto le balottas di voi ok come di già si soprattutto di te e beh ormai mi sopporti da anni quindi lo capisco no non ti sopporto danni diverso sopporto più ok io non ti do il barret no no dammelo il barret lo ruberò dalle tue carni morte tano dalle tue mani fredde lo prendo il mio corpo prendi ciò che vuoi la gelida manina quella che ha modificato cosa sto dicendo ho paura ragazzi qualche cosa spicy i lucky blocchi al centro di solito sono sempre quindi al centro quindi al centro io sono al centro venite a prendermi puttane ma ora non è che siccome sono tano sono un puttano io faccio una cosa spicy cioè becchia sta cosa vedrete che roba spice che faccio fa la trappola ragazzi attenti sono sono furbo non mi riconosceranno mai anche se ora l'ho detto e lo faranno sì quindi praticamente è cambiato robe in robe quelle è no è andato lui sopra ovviamente poi cosa ho fatto vediamo se è così perspicace signor metano è preso l'aromatura di mister x cos'è sto you can make the jump ma chi ne ha messo sto cartello non è nostro c'è un cartello bassa fucile a pompa raga non sto trovando niente tec è il momento di notificarci l'avanzamento della alexa quanto manca lo scadere un minuto silenzio alexa quanto manca lo scadere del timer 40 secondi lo chiedo sempre quando mancano dal minuto ai 40 secondi ragazzi tutto questo mentre alexa esponeva la sua teoria dello scorrimento del tempo io ho trovato le munizioni esplosive per la minica mi ha trovato nata anche io e non ci interessa niente all'arrete esplosivo e la minican esplosiva emerald ok non è possibile qua è un posto ideale per fare l'operazione ma anche un'altra roba leggermente spazi sì ma quelle danni da sotto danni 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 va bene ok perfetto no perché era raga attivate le entità ok fatto no ho capito non puoi devo attivarmi giusti il borde il borde il borde il borde aspetta ragazzi ragazzi il borde stringe bene danno ha paura e non è l'unico ragazzaУ no era scarica б comma era scarica porca troia uooooo u UV dove siete shifterini non saprei mai dove sono Io tra l'altro sono qua Io me ne vado via Anzi ti devo dare un colpo di avvertimento anche Dove sei? Io vi darò un colpo di averti spalla invece Pazzo Shit È pazzo raga È pazzo Aia Aia Lo devo prendere ragazzi Alle armi dei miei sogni Dammele Non mi prenderai mai Vedi qui strozzo Non mi prenderai mai Caramelle Come sei andato? Raga sto facendo un pazzo in seguimento Ottimo Vai Emerald La barriera Emerald Ma C'avete già vicino a voi? Cazzo lui Madonna Ia Questo non lo voglio più Questo non lo voglio più Lui ha jetpack Non puoi avere tutta quella roba Raga dai È perché ha ucciso Quello che aveva tutto lì Come si chiama? Come si chiama? Quello che aveva tutto Povera anima Sto scherzando Raga Oh 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 Via Via Come se non ci fosse un Raga Potevo killarlo C'avevo sta merda di roba Che era pure scarico Sono trovati 200 E quello che avevo era scarico Ehi Chi è la tu? Amico Mamma mia Che paura Ok 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 Sono riuscito a colpirlo Un po' di volte Avrà anche un medikit Sculato come è Ragazzi No 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 Magari Sì beh sai È un jetpack Equivale a un medikit Ah no invece C'è lui medikit raga Ma Ragazzi Ma basta che vai al centro Hai un jetpack No ma ho trovato proprio il medikit No raga Non è possibile Ora hai trovato? No no Ce l'avevano di inventare Non ce l'ho mai fatto caso Ragazzi Dobbiamo Dobbiamo Che fastidio Che fastidio cazzo Ce l'avevo davanti Non mi aveva visto Lo potevo shottare con un colpo solo E prendermi tutto E perché non l'hai fatto? Era scarico Con la merda di cosa Lui si è girato e scappato E aveva il jetpack Non sono riuscito a prenderlo Non è colpa mia Non è colpa mia Se non ho trovato una minchia E squelpa E la tua è squelpa Che sei? È la sfiga da nuova mappa Io soffro di Questa cosa Poi tu non ti sei cagato addosso Vedermi con questa tenuta nuova Cacchio tantissimo Io non mi sono Io non ho neanche visto Sembravo tipo il mare Allora Se non avessi avuto il jetpack Mi sarei buttato sotto E basta Dici? Sì Ma guarda che Stava Qualcuno ha sparato anche a me Non io C'è un attimo di tranquillità Questo è buono Dobbiamo Ma io non mi vedo nessuno vicino alla barca Ma sì io vedo tutti Vedo due persone Quanti siamo Vivi? Quattro? Se preferisci Se no blazer Possiamo restingere ancora di più La barriera dopo un po' Dopo un po' Sì 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 Lasciali arrivare Lasciali arrivare I ragazzi Mi fido di loro Mi fido di loro Avevo anche la katana A saperlo ti veniva A tirare un paio di katanate Guarda la katana Ce l'ho anch'io Ho sentito qualcosa Chi che ha sparato? Non so Siamo almeno in tre Uh che è quello? Uh 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 Nessuno Nessuno Vedo un take for play Ed è dentro il mio mirino Possibro Tech for play Ed è dentro il mio mirino Potrebbe morire all'istante Possibro Tech for play Possibro Potrebbe morire Possibro Lo vedo ancora E Qualcuno Oddio Oddio Oh 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 Cosa sta vedendo? No 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 Non 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 Sapevo che c'era anche il signor blazer di Torilay Ma non l'ho detto Anch'io l'ho visto Sì però è È esitato Oddio Oddio che ho visto? Ma te che Sei tornato da me? Dove sei? Dove è andato? È sotto È sotto È più sotto Yes Stavo girando per prendere le caramelle Che cosa avevi? Che cosa avevi? Tutto avevo Avevi tutto Avevi tutto? Cosa vuol dire che avevi tutto? Ah la barriera Aiuto Queste cose sono inutili Scusate ma non riesco a schiacciare il pulsante L96 ammo L96 L96 ammo Ok 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 Questo ci serve Eh si è fermata Oh si è fermata la barriera Oh 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 Signor blazer Mi Che c'è Può dare il consenso di ammazzare il signor Tano? Nooo Non lo so Non lo so Ok allora le dico dove sta Sta sotto di lei Oh grazie ma come mai sta gentilezza? Perché ti vuole far fuori come vero ultimo Ah sei un infame Tu vuoi concludere con la portata principale Eh già Ma senti Tech Io sono un attimo interdetto da una cosa Tu avevi le munizie dell'L96 Ma non vedo nessun L96 qui Ma non vedo neanche che tu hai preso Ah si l'armatura leggendale Signor blazer Per chi si nasconde là dietro? Oh shit Ok non mi sto nascondendo Sto lavorando la mia tattica Mi lascia in attimo Ok Lavorare All'emittà dei campi Io allora le spot il signor Tano Così poi puoi ammazzarlo Ma Tano non c'è più ragazzi Tano si è andato via in un'altra mappa Questa cosa Sta giocando alla pixel Mi preoccupa non poco Ci sono resti ovunque Dei miei resti C'è che I tuoi resti sono sì ovunque ma Aspetta io non ho il carbone Non ho Non ho il carbone Cosa me ne faccio del tuo coso? Senza il carbone Ehi Sono anche sceso Li do io e li utilizzi Sul tuo coso Non ne voglio sapere nulla Ragazzi questa partita è complicata Ok È una partita complessa Allora Signor Blazer Dovrebbe essere quello là Il fatto è che Vos signorie invece Ma sto vizietto Dello shift facile Ce lo togliamo? Adesso disabitiamo lo shift O siete dei vigliacchi Io non ho bisogno perché vedo tutti O siete dei vigliacchi Ma anche io soltanto che sono in posizione svantaggiata Quindi Signor Blazer Perché la lana nera in mano? Ma perché non si fa i cazzi suoi Signor Emerald? Ti vedo Io poi Ma è mia Su di ciò Eccola La roba Yes Yes Non so perché mi ha dato questo cibo in mente Non è colpa mia Non ne so niente Da che io devo capire dove cazzo Rola hai droppato il tuo affare Tano di nuovo Tano di nuovo Eh uomo è un vizio Che ti devo dire Ma è che mi sembra lo stesso punto di prima più o meno Ma non è possibile Tano si è bloccato sotto la montagna Ci sono ricaduto Tano mastica Oh L'ho visto No 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 Non hai visto Tano però No 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 Lei è ancora quel colpo vero? Sì Ah hai visto il corpo Di qualcuno Signor Blazer Io l'ho visto pure Non mi spari perché se no lei è morta Raga sparatevi dai No io non sparo a nessuno Che Tano arriva all'ultimo e la vince Dobbiamo qualizzarci contro il Tano perché è camperato Non sono camperato Mi sto muovendo in un posto di tattico Cioè Parla Emerald che si è fatto la base praticamente Cioè ha pure Ha fatto pure i mobili ha fatto Io non te lo vorrei dire ma mi sa che Tano ti sto salendo alle spalle Eh vabbè mi faccio saltare all'aria col barretto esplosivo Cosa mi dici? Non è un problema Cioè si è fatto la base il signore Emerald Io ve lo dico Ah io Guarda ha fatto le scale Ha fatto anche il magazzino con le cose La cesta con le robe Ma sei serio? Qui c'è la mia crafting C'è la crafting table Davvero? No dai Mi chiuso E ora c'è il fratello che aspettavo che dovevo fare Cioè ma davvero hai fatto una base? No 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 base no però diciamo che Voglio farci la review il tour Sì sì dopo A fine match ci vengo Io vedrei a griffarla Aspetta Che succede? Don't kill the Tano No Ma non è possibile che questo Sa le mie cuffie sono più belle delle sue Oh shit Le mie cuffie Raga io non so più come approcciarlo sto ragazzo oggi Ehi Tano 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 Ehi che cosa? Dove sei tu? Signor Bresia glielo dico io eh Ce l'ho provato signore Dobbiamo far fuori il signor Tano Signor Tano non so dove sia il signor Tano Signor Tano incomincia a sparare Noi c'è noi ci Io vi ho sparato un razzo Se non vi è arrivato non è mica perpa mia Tano tu non sei mai comparso in questo video calcola Meglio La tensione si taglia Non voglio Cominciarvi queste cose qui Allora Però voi siete tutti shiftati No 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 io sto volando Io non sono shiftato Pizio davvero pessimo Non posso shiftare mentre volo credo Cioè Perché stai volando scusami Oh 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 No chi è questo? No 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 C'ho Emerald Aiuto Signor Tano Non mi avrai mai Ma signor Bresia Oh Cosa c'è? No era scarico di nuovo No Zio Zio era scarico di nuovo No 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 Ma cosa sta succedendo? Ragazzi Oh 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 Naaaa No này Oh 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 no Cosa? Stavo andando con il mio Mereghetto trailer Eccono qui Laser Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Oddio Laser Oddio Mamma mia Non toccare mai più i miei drop Non toccare mai più i miei drop Che sudato È stata la partita più difficile della mia vita Ragazzi per questo video è tutto Se vi è piaciuto lasciate un like Io sono stanchissimo È stato Eme è stato un match davvero Bello grazie È stato davvero difficile e bello quindi io per concludere Direi Ok Va bene lo stesso Ciao a tutti